Conad Punta Marina, proprio all'ingresso di Punta Marina. Facile da raggiungere, con comodo ed ampio parcheggio dove poter fare la spesa con facilità e convenienza. Prezzi bassi e fissi sempre! E nuove offerte tutti i giovedì, oltre alla vasta scelta di prodotti a marchio Conad, e non solo! Il nostro personale cortese e qualificato ti potrà aiutare a trovare tutto ciò che cerchi. Dall'ortofrutta freschissima, il fornito banco salumi e formaggi, macelleria a libero servizio, rosticceria e takeaway. Pescheria con servizio, panetteria con pane cotto da noi e del fornaio. Ma tanto altro ancora ti aspetta su 1200 metri quadri di assortimento di prodotti anche non alimentari, ma necessari. Come articoli per la casa, piante, fiori, cartoleria, piccola profumeria. E poi, basta chiedere! Siamo aperti tutti i giorni dalle 7.30 alle 20. La domenica dalle 7.30 alle 13. Aperti anche a Pasquetta. Conad di Punta Marina Terme. Da sempre, sinonimo di qualità e convenienza. www.conad.marina.it Questo 2020 di paure e di incertezze non ha fermato Itinera, la festa del cammino consapevole che festeggia quest'autunno i quattro anni di attività. Grazie alla passione di 3Romagna e la copartecipazione degli assessorati cultura, ambiente, sport, mobilità, turismo e immigrazione del Comune di Ravenna e a sostegno del Consorzio di Bonifica della Romagna Main Sponsor 2020, anche quest'anno Itinera si appresta a muovere e a promuovere il cammino culturale, rivolgendosi come da tradizione a un pubblico ampio e variegato, con un programma ricco di eventi diversi, ma tutti accomunati dall'amore per la scoperta del nostro patrimonio culturale e naturale. Anche quest'anno ci abbiamo creduto e quindi riusciamo a svolgere la nostra quarta rassegna dedicata al cammino consapevole con partecipazione dei quattro assessorati al Comune di Ravenna, ma devo dire che ormai le collaborazioni sono sempre più ricche e rendono il nostro programma sempre più appetibile. Abbiamo tutta una serie di eventi, il verde è in cammino, naturalmente il link è diretto perché quest'anno, come ben sappiamo, la natura la deve fare da padrone e sarà un ottimo momento emotivo soprattutto per far conoscere gli ambienti meravigliosi della città e soprattutto le eccellenze che ci contraddistinguono. In questo avremo il supporto di Tiziano Fratus, quindi tra i più grandi conoscitori degli alberi, anzi lui veramente ci parla con gli alberi, quindi avremo la possibilità di condividere i monumentali di Ravenna in città e quindi di conoscere il nostro territorio perché poi questa rassegna ha più motivazioni. Una di queste soprattutto è quella di far conoscere al cittadino, soprattutto il proprio territorio, avere una consapevolezza maggiore e quindi poter essere il primo paladino per poter promuovere la nostra straordinaria città. Noi siamo comunque un'associazione sportiva di lettantistica che poi ha sviluppato questa trasversalità naturalmente nella cultura, nel paesaggio, nella gastronomia e quindi in tutte le opportunità che il nostro territorio meraviglioso può esprimere. Negli eventi naturalmente sportivi, nella ripresa anche della Ravenna Milano Marittima, un altro must della nostra programmazione, abbiamo iniziato la ripresa con l'Urban, con la Ravenna Città d'Acque, con la presentazione anche del libro Ravenna Città d'Acque grazie anche alla collaborazione appunto di Romagna Acque e di Danilo Montanari di Tori e dei grandi autori che hanno firmato naturalmente questa bellissima pubblicazione che vi invito naturalmente ad andare a leggere perché è veramente un motivo importante per conoscere come attraverso l'attività motoria e quindi il nostro slogan è Natura in Movimento e quindi riuscire a portare attraverso lo sport in maniera molto ampia alla conoscenza del nostro straordinario territorio. Verde Cammino è il titolo della rassegna 2020, a concentrare l'attenzione su quanto già in parte emerso dalle precedenti edizioni e cioè la relazione strettissima che da sempre intercorre tra natura, cammino e creatività, fra l'energia che solo il verde sa trasmettere e il susseguirsi dei passi. E non mancherà il tradizionale ventaglio di proposte declinare il cammino nelle sue più svariate forme, secondo le specifiche esigenze e gli aspetti che tra il Romagna si premura ogni anno di sottolineare. Il cammino come basilare terapia psicofisica, come occasione conviviale di dialogo e confronto, come procedimento spirituale necessario a riconnetterci alle nostre antiche e profonde radici. Itineran è un evento importante perché riesce a coniugare molti aspetti e poi tu lo sai a me molto chiari perché oltre all'aspetto sportivo, all'aspetto dell'attività motoria che è fondamentale e proprio nei misi del lockdown abbiamo visto quanto ci è mancato e quanto poi beneficio dia al fisico e anche alla mente l'attività sportiva. Poi tra l'altro io dico che gli eventi di Itineran ti fanno entrare talmente tanto nei luoghi che visitiamo che veramente danno un beneficio psicologico molto ma molto importante. È una sensazione proprio intensa quella che si prova quando si visitano questi luoghi. Appunto l'attività motoria, dicevo, con la cultura, con quello che è il patrimonio del nostro paese e anche storico. Abbiamo fatto iniziative importanti tipo la riapertura delle vecchie mura, stiamo investendo proprio per riqualificare le vecchie mura, quindi proprio da questa idea di Itineran, di passeggiare, di riaprire la città, le vecchie mura è partito anche il progetto dell'amministrazione di riqualificazione appunto di questi luoghi per far sì che poi siano vivibili tutti quanti i giorni, così come tantissime altre cose che sono state fatte contro la Romagna, tra cui anche la discesa dei Fiumi Uniti o appunto la corsa, la passeggiata nei Fiumi Uniti. Questo per far sì che insomma non siano solo eventi da fare in particolar momento dell'anno ma insomma diventano fruibili per tutti quanti i cittadini e soprattutto penso che sia un modo anche per poter valorizzare sempre di più, per promuovere sempre più il nostro patrimonio artistico, dicevo culturale ma anche gastronomico perché poi una delle cose che fa Itineran è anche quello di insomma valorizzare quello che è la nostra cucina, che è una cucina chiaramente amata da tutti quindi un evento diciamo così per i cittadini ravennati e per i turisti che verranno a visitare la nostra città. Saranno 13 giorni ricchissime a celebrare come sempre la centralità del tessuto umano, ambientale, storico e culturale di Ravenna con itinerari vecchi e nuovi ma sempre e comunque tesi a rimettere in discussione il rapporto dei cittadini con Ravenna fuori dai luoghi comuni e dagli automatismi preferibilmente all'aria aperta. Dopo il lockdown abbiamo visto aumentare di più la motivazione e l'interesse da parte di tutte le persone verso a esperienza all'interno della natura quindi che fosse una modalità di vacanza, che fosse anche solamente un'escursione, la ricerca di un contatto e anche di un equilibrio della persona stessa con il resto dell'ambiente ha portato a crescere molto le prenotazioni in quelli che sono stati non eventi istemporanei ma in maniera continuativa opportunità di visita del nostro territorio che abbiamo organizzato con tanti anni di lavoro. Abbiamo dei luoghi che sono eccezionali che raccontano anche un po' la storia d'Italia e non solamente quella di Ravenna. È così che si sta cominciando ad infrastrutturare un altro modo di far vacanza, un altro modo di viaggiare, un modo lento, una ricerca di esperienza, di conoscenza di se stessi e anche dei propri limiti ed è qui che sta nascendo un forte interesse nei confronti dei cammini. Avete visto che negli scorse settimane abbiamo chiuso un accordo istituzionale molto importante tra 37 comuni tra la Toscana e l'Emilia Romagna con capofila Firenze e Ravenna per quello che è il cammino di Dante, il cammino che ha alcuni percorsi tra Ravenna e Firenze che passano o dalla parte di Faenza o dalla parte di Forlì ma che noi vogliamo ampliare ulteriormente perché pensiamo che Ravenna possa essere al centro di questo nuovo modo di viaggiare, più sostenibile e più alla ricerca di un equilibrio con sé e con la natura e quindi apriremo anche una sperimentazione grazie agli amici proprio di Tre in Romagna verso Venezia, quello che fu l'ultimo cammino di Dante. Quindi stiamo progettando questo grande evento che poi potrà portare anche proprio alla costruzione di un vero e proprio cammino tra l'altro all'interno delle zone lagunari che ci separano dalla città vicina e amica di Venezia. Il viaggio è una delle caratteristiche della modernità, si viaggia per lavoro, per stare in compagnia, per immergersi nella natura ma anche per stare in forma e dunque Itinera presta anche attenzione al rapporto tra cibo e cammino. È un settore in cui non essendoci un soggetto propriamente interessato fa fatica a decollare in termini proprio culturali, di ripensamento di quest'area del mangiare viaggiando che è invece modernissimo, lo era di necessità dal medioevole, lo è ancora oggi, lo è diventato oggi. Bisogna fare un ragionamento specifico che coincida con un ragionamento che abbini la politica economica al paesaggio. In letteratura di politica economica c'è una vasta letteratura su questo settore che parte dal concetto di distretto, è l'identità del luogo, con gli architetti del paesaggio, con i passeggisti, con quelli che organizzano viaggi consapevoli e intelligenti. Bisogna lavorare mettendo insieme i vari mestieri del cibo e il viaggiare può diventare anche un mestiere del cibo come lo era per Dante 700 anni fa. Diciamo che dal fiaschetto del viandante si è passati alla barretta, poi lei ci sta dimostrando che anche un volgarissimo bicchiere di plastica, anche se riciclata, sicuramente può sembrare un bicchiere per servire un grande vino, quello che ci ha presentato questa sera. Certamente, la coscienza dei luoghi che è un concetto di politica economica è attenta alla cultura del cibo, dei prodotti, non ai prodotti di una volta. Bisogna attualizzare in chiave moderna la cultura del passato. Questo è un passaggio fondamentale per abbinare il piacere, la gastronomia, con la politica economica, con la creazione di ricchezza. Chiarini, mi può citare velocemente chi, in collaborazione con Chef2Chef, a chi presenti questa sera alla presentazione di Tineran, quarta edizione? Stasera i principi sono i cuochi, sono soprattutto Matteo Salbaroli, capofila di Ravenna Food, che è l'appendice locale, diciamo, di Chef2Chef Emilia Romagna Cuochi e l'astro già ormai non più nascente, ma già ampiamente nato, che è Mattia Borroni, a cui ho chiesto, nello zaino, anziché la borraccia, mettiamoci il sifone di Ferran Adriano.